Casino Palinuro! Con il concerto di Paolo Meneguzzi ha preso il via ieri sera la manifestazione Palinuro Meatland organizzata dal comune di Centola con il patrocinio della regione Campania La piazza centrale, stracolma di turisti e fans dell'artista venuti appositamente per il concerto da ogni parte della regione è stata teatro di uno spettacolo incalzante nei ritmi e coinvolgente Il fitto programma di eventi prosegue questa sera con il musical Palinuro Nocchiero di Enea dell'Associazione Artisti Cilentani e domani con il concerto di Carla Marciano, Carla Marciano e i miti del jazz a seguire lo spettacolo degli artisti di strada lungo le vie del centro di Palinuro Sul palco ieri sera anche il sindaco di Centola, Carmelo Stanziola Ma che fossi quasi un mio bellissimo perché non ci pensavo mai Nessuna storia inutile d'amore Ci desida amore ma per chi? E poi all'improvviso sei arrivata tu Non so chi l'ha deciso ma hai preso sempre più E' una quotidiana guerra con la razionalità Ma va bene pur che serva per farmi uscire Palinuro! qui seduto in una stanza pregando per un sì